Una saccatura si estende dal Mediterraneo centrale alla Scandinavia e convoglia aria artica sulla penisola italiana, situazione senza grosse variazioni sino alla fine dell'anno. Lunedì 29 dicembre in Toscana, cielo sereno poco nuvoloso, venti forti, mari poco mossi sotto costa, mossi o molto mossi a largo, temperature minime locale calo con gelate al mattino nelle zone riparate dal vento. Cielo sereno su tutta la provincia di Lucca, nella Piana temperatura minima prevista meno 2 massima più 10, in Versilia minima più 4 massima più 12, in Garfagnana minima meno 6 massima più 1.